Arriva il rugby in piazza Garibaldi. Per essere precisi, il rugby touch è una disciplina che non prevede il placcaggio dell'avversario, ma solo il tocco del placcatore sul placato. Uno sport decisamente sano e salutare, che ha rimesso in gioco i fair play, il rispetto dell'avversario, il valore dell'amicizia e il gioco di squadra. Due tornei che ieri si sono disputati a piazza maggiore. Il primo è coinvolto ai più piccoli, l'altro gli adulti e anche coloro che solitamente non sono vicini al mondo del rugby e dello sport. Giocare sano, giocare insieme, ma soprattutto tornare a rianimare una delle piazze più belle d'Italia durante le sere d'estate. E questo il vero successo dell'ambiziosa iniziativa del Sumuna Rugby, realizzata in collaborazione con l'associazione culturale Giostra Cavaleresca di Sulmone. La piazza è l'esempio della città, la nostra bandiera. Si torna a fare quello che è normale, cioè giocare sotto al palazzo. Non ci vogliono grandi strutture, grandi campeggi o grandi intrattenimenti. Basta un pallone e quattro bambini che gli danno dei bei calci sopra. Più forte! Brava, brava! Per il punto di... Brava!